Ciao ragazzi, oggi stiamo con il nostro video perché oggi voglio mostrare un'applicazione che ci aiuta a costruire delle nostre musiche voglio, mi spiego meglio, diciamo, voglio è un'applicazione che serve per, avete presente quando vi scudo il cellulare ecco, questa applicazione vi serve per appunto scegliere la musica che vi preferite ma passiamo ovviamente all'applicazione, così vi faccio vedere meglio ok ragazzi, siamo sopra l'applicazione, l'applicazione si chiama appunto suoneria e creatore e adesso per modificare appunto la nostra musica, per mettere alcune suoneria bisogna andare appunto su suonerie, appunto, sostanzialmente e adesso scegliamo la musica che ci interessa a noi adesso io prendo una canzone che utilizzo, un parola musicale che mi piace molto New Land adesso andiamo sopra modifica e appunto ci dà appunto questa timeline che appunto ci serve per modificare l'audio come diciamo, per esempio, sopra le parti di editing adesso vediamo un po' se funziona ok, la parte questa qua mi piace quindi visto che mi piace, può decidere anche quanto lo voglio lunga, è stata questa cosa qua e andiamo su salva e andiamo su salva suoneria perché qui c'è stato musica, allarme, notifica o suoneria io ho metto su suoneria andiamo su salva appunto, giustamente e la impostiamo come predefinita adesso proviamo a non arrabbiarsi per la pubblicità e mi chiamo e vediamo cosa succede ok, ho preso un altro telefono e adesso mi chiamo e vediamo un po' che cosa succede quindi andiamo sulla rubrica non mi piace dare il numero perché sennò mi chiamò a tutti ok, ha funzionato ora sono molto contento diciamo che sono contenta perché questo video lo sto facendo da un sacco di tempo diciamo non sto anche a un sacco di tempo perché questo video prima il brignatore mi dà fastidio poi il kai master si è bloccato poi il mobile design è pure questo adesso finalmente sono riuscito a fare un video decente via un po' se è proprio decente comunque ragazzi trascendo queste conclusioni ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciatevi un commento e un bel like iscrivetevi al mio canale vi ricordo anche di seguirmi sul mio posto di strama il link è sempre in descrizione e noi ragazzi ci vediamo la prossima volta con questo video ciao ciao